Questa sera sono al Virgen di Vietocchioli, c'è un po' su come voi e sarò qui a fare una gran serata con l'action painting. Action painting che cos'è? Action painting è dipingere qualcosa nell'arco dell'evento, una serata, discoteca, aperitivo e qui creare qualcosa che dia colore, dia dinamicità, dia curiosità alle persone, ai clienti e quindi cosa faccio io? Creo un qualcosa di astratto figurato come questo, questi sono dei quadri fatti in eventi, quadri fatti durante una notte bianca o il cinema, un negozio antiquariato, qualsiasi tipo d'evento io vengo cercato, chiamato e faccio compagnia appunto ai clienti e ai appunto gestori del locale e faccio anche dipingere le persone con il live painting. Ho tra le mani una maschera, tra poco io mi vestirò, sì perché questa maschera rappresenta una trasformazione, di là c'è una tela che mi attende grossa un metro per due, ma questa sera nell'arco di poche ore avrò modo di avere due stili, non vi dico moltissimo, vi dico solo che avrò un abito completamente nero lucido, tra questa maschera al viso e dipingerò appunto un quadro a tenera, stasera prenderà vita, colore, sarà uno spettacolo dove ci sarà un mix di acqua e sabbia, per dopo vedere un altro tipo di action panty con il colore, dove io cambierò forma, avrò modo di poter dare compagnia ai clienti del Virgin Cafe, di far dipingere anche le ragazze, le modelle, i proprietari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.